Buonasera, sono il professor Longo. Intanto volevo fare le congratulazioni al dottor Rossetto, presidente dell'Ordine dei Biologi della Lombardia e a tutti i biologi della Lombardia per lo straordinario lavoro fatto. E' importante anche parlare del futuro e del ruolo che i biologi possono avere nel presente e nel futuro. Spero che il biologo nutrizionista, ma non solo, abbiano un ruolo sempre più importante affiancando i medici nella prevenzione e cure di tante malattie e poi nella cosa più importante che è la longevità sana. Quindi, come sapete, la mia speranza è che il biologo molecolare, il biologo in generale, il nutrizionista, il medico e anche altri professionisti della salute possono lavorare insieme per aiutare tutti ad avere una vita lunga e sana. Grazie.